Le 8 non in punto, 8.01 e 30 secondi, buongiorno, benvenuti al dibattito di Omnibus di questo sabato nel quale non possiamo non parlare dei fatti francesi, dei fatti di quello che è successo in Mali, delle azioni armate, dell'ISIS, è sostanzialmente di una domanda tanto semplice quanto inquietante e dalle risposte altrettanto difficili. Siamo oppure no in guerra? E soprattutto, se siamo in guerra, chi sono i nemici e quali sono le coalizioni? Una domanda non da poco conto che questa mattina noi affronteremo con un panel di esperti, vi presento a partire dalla mia sinistra, c'è l'ambasciatore Alessandro Minutorizzo, presidente della fondazione Nato Defense College ed è stato l'ambasciatore Minutorizzo, segretario generale delegato della Nato. Accanto a lui Umberto De Giovannangeli, collega dell'Unità, buongiorno Umberto, alla mia destra Riccardo Cappelli, esperto di studi strategici, docente all'Istituto Militare di Scienze Aeronautiche di Firenze, accanto a lui un collega, Olivier Bob, responsabile della redazione della France Press a Roma, benvenute tutti e due, e in collegamento da Roma con il Big Ben dietro, l'economista Loretta Napoleoni, che ringrazio per essere intervenuta questa mattina. Buongiorno Napoleoni. Buongiorno. Allora, ambasciatore Minutorizzo, come dicevamo, la domanda che vediamo nella nostra scrittina qua sotto è semplice ma al tempo stesso complicatissima. Siamo in guerra? Se siamo in guerra, chi è il nemico o i nemici e soprattutto chi sono gli alleati? Beh, io sarei molto attento a usare i vocaboli, perché le parole pesano. Allora dire che noi siamo in guerra, secondo me, è un vocabolo troppo forte. Si dice molto in questi giorni e ci tende a dire piuttosto questo. Direi come stare molto attenti, perché poi ci si abitua a questo e poi la guerra si è su serio. Detto da lei che ha passato decine di anni assieme ai militari, ai comandi militari? Ho visto tutte le zone di crisi possibili e immaginabili, quindi da questo punto di vista è vero. Secondo me non siamo in guerra, siamo di fronte a degli atti terribili, a delle cose di assoluta emergenza, però prima di passare alla guerra speriamo che ci siano delle fasi intermedie in cui questo non succede. Gli alleati, qui ci sono i valori occidentali da una parte, c'è una società libera che è quella europea, in cui praticamente c'è il massimo di libertà che esiste al mondo e ci sono dei terroristi senza pietà dall'altra. Allora è chiaro che è una lotta asimmetrica, se vogliamo, in un certo senso. Però mi sembra anche evidente, come dire, che noi non dobbiamo cedere né sui nostri valori né sul nostro stile di vita e dobbiamo cercare di andare al cuore di questi gruppi di terroristi e cercare di evitare le cause che provocano la loro esistenza e che sono in parte immediate e che sono appunto l'ISIS, tutte queste cose che noi sappiamo e in parte forse sono delle cose un po' profonde che derivano da certe frustrazioni, ma questo è un tema molto più lungo dell'integrazione degli arabi in Europa. Noi abbiamo vissuto ambedue a Bruxelles molti anni e sappiamo bene cosa vuol dire. Loretta Napoleoni, Minuto Rizzo parlava di alcuni punti da andare a toccare. Lei cosa ne pensa? Chi è il nemico? Chi sono gli alleati? Quali sono i punti da andare a toccare? Io sono assolutamente d'accordo che non ci troviamo in guerra. Questi sono atti di terrorismo, li abbiamo già visti, specialmente noi in Europa negli anni 70, qui addirittura nel Regno Unito l'Ira ha imperversato per diverse decadi. I punti fondamentali direi sono punti di politica internazionale, nel senso ci troviamo di fronte a una situazione che può essere risolta solamente se riusciamo ad ottenere un legame nuovo con la Russia, perché parliamoci chiari, qualsiasi azione di pacificazione, anche qualsiasi azione bellica a livelli più elevati di quelli attuali, senza il consenso e senza un'alleanza con la Russia nel Medio Oriente non funziona. Il che vuol dire che dobbiamo iniziare a risolvere problemi relativi ad altre aree geografiche, per esempio la questione dell'Ucraina, la questione è anche delle sanzioni economiche nei confronti della Russia, quindi la matassa è estremamente complessa, estremamente complessa. Lo Stato Islamico chiaramente è un animale politico, capisce perfettamente cosa succede sulla scacchiera internazionale, cioè l'abbiamo visto con il modo in cui ha gestito gli ostaggi giapponesi, incuneandosi in un dibattito sul cambiamento della Costituzione giapponese per poter intervenire militarmente anche in situazioni di nuova aggressione. E quindi sta facendo la stessa cosa in Europa al momento. Molto astuto. Molto astuto. Molto astuto. Quindi noi abbiamo sottovalutato anche il nemico. Però torno a ripetere, noi dobbiamo risolvere dei problemi che sono a monte sulla scacchiera internazionale e a quel punto poi potremmo gestire anche lo Stato Islamico, ma al momento ci troviamo bloccati. Grazie. Umberto. Io sarò molto schematico, rispondo alle tue tre domande. Siamo in guerra? Sì, siamo in guerra. Non lo dico io, che conto poco. L'ha detto François Hollande ripetutamente. La domanda che allora dovremmo sviluppare in corso di questo dibattito è che tipo di guerra è questa, ma che indubbiamente non siamo alla riproposizione del classico terrorismo. È data da che cosa? È dal nemico che abbiamo di fronte. Loretta Napoleone ha scritto un bel libro, tu lo hai lì, Lo Stato del Terrore. Cioè, la differenza rispetto alla fase precedente di Al-Qaeda è proprio questo. Cioè, l'Isis non ragiona in termini di jihad globale, questa è propaganda, cioè non ha nessun interesse a conquistare Parigi piuttosto che Washington, piuttosto che Roma. Loro hanno l'interesse a consolidare, rafforzare ed estendere il proprio territorio, che è quello tra due Stati falliti, cioè la Siria e l'Iraq. Questo è quindi ragione in termini completamente diversi e allora dovremmo partire da questo. Terza cosa, e che credo che sia la tua domanda, chi sono gli alleati? E questa è una bellissima questione, perché, insomma, certo, diceva l'Occidente, eccetera, ma visto che noi non vogliamo, non pensiamo a uno scontro, una guerra di civiltà, è evidente che noi dovremmo tenere dentro una coalizione politico-militare i paesi musulmani. E allora la domanda che faccio, e chiudo su questo, ma siamo davvero convinti che una serie di attori regionali importanti, cruciali... L'Arabia Saudita. L'Arabia Saudita, ma vogliamo parlare della Turchia? Cioè la Turchia, fino a qualche tempo fa, era il paese che ha permesso l'ingresso in Siria di centinaia, se non di migliaia di foreign fighters. Perché? Perché in quel momento Erdogan ragionava in termini, il nemico del mio nemico può essere il mio alleato, Assad era il mio nemico, e quindi questi altri mi potevano favorire. E poi c'è il problema, e chiudo, di capire, noi non vogliamo mandare soldati sul campo, no? Benissimo, ma chi c'è sul campo lì a combattere in Siria Daesh? C'è l'Iran, i Pazaran iraniani, c'è un paese sanzionato, ci sono gli Hezbollah libanesi, che sono, diciamo così, in una black list delle organizzazioni terroristiche, e ci sono i peshmerga kurdi, che sono quelli con cui fino all'altro ieri era Erdogan in guerra. Quindi dobbiamo anche capire bene se con questi dobbiamo cambiare posizione. Cappelli, visto dal suo punto di vista le nostre domande, guerra, chi è il nemico e chi gli alleati? Allora, chi è il nemico e chi gli alleati, e soprattutto se siamo in guerra. Anch'io ho una visione un po' più riduttiva, diciamo più sulle posizioni di Minuto Rizzo e della Napoleoni rispetto al giornalista dell'unità di Giovanangeli. Il problema è che è un conflitto regionale con riverberi all'esterno. Questi riverberi all'esterno sono terribili, gli atti di terrorismo ne sono una chiara indicazione. Il problema grosso è che vengono usate le parole, quindi guerra, non più aggettivata, non la guerra umanitaria, la cyber guerra e quant'altro, ma proprio guerra vera e propria. Questo, diciamo così, è comprensibile dallo stato in cui è il Presidente francese adesso, che è sotto shock, che hanno avuto un attacco gravissimo, che deve rispondere, che sente la pressione dell'opinione pubblica. Però guardandolo in maniera più distaccata, non è che noi europei siamo in una guerra vera e propria. C'è un grosso conflitto regionale dovuto a una serie di motivi, fra cui, come giustamente ricordava, gli interessi della Turchia, gli interessi dell'Arabia Saudita, gli interessi dell'Iran, ma non solo, se allarghiamo anche l'Afghanistan, gli interessi del Pakistan e così via. Certamente un grosso e difficilissimo conflitto regionale, con riverberi all'esterno. e come andrà a finire? Beh, chi lo sa. Questa è la domanda. Olivier Bob, il suo paese è in guerra, il tuo paese è in guerra. Ollanda ha detto. Per lo meno è quello che ha detto il Presidente. Dopodiché, sapere se siamo in guerra o no, alla fine stiamo facendo dei reatti di guerra, diciamo, quando si bombarda l'ISI è un atto di guerra. Dall'altra parte, loro ci fanno una guerra, che è una guerra non solo regionale, perché il nemico, se dobbiamo parlare del nemico, secondo me è il jihadismo, che non si trova solamente soltanto in Siria o Iraq, me l'abbiamo visto in Mali, ieri c'è stato questo attentato. Allora il nemico, secondo me, è il jihadismo, che si combatte con la guerra militare, con forze militari, però bisogna sapere che è molto difficile se non si manda troppe terrestre su soldati. E poi i bombardamenti sui posizioni dell'ISI, ma si sa che lo stiamo facendo da un anno con gli americani, adesso i francesi con pochi risultati. Perché? Perché l'ISI non è che si trova in una caserma con centinaia di militanti dell'ISI, no, vivono insieme alla popolazione, se non vogliamo fare una strage di civili è molto difficile colpire proprio, è per questo che la soluzione militare è molto difficile di avere un successo rapido e distruggere l'ISI, però bisogna farlo comunque, perché se no è difficile però, volevo anche dire che è molto importante non sbagliare nel nemico, cioè parlare di jihadismo e non dell'islam, perché quello che vuole l'ISI, soprattutto in Francia, nel mio paese, è una guerra civile. Cioè che i musulmani, che noi francesi... E la Francia teme una guerra civile? Per il momento no, devo dire che no, di quello che ho visto, la situazione dopo una settimana così tesa, gli incidenti musulmani, diciamo... Non ci sono. No, non ci sono. Ho visto uno, però uno è poca roba, diciamo. Ambascio per minuto Rizzo. Allora, sia che sia guerra, che non sia guerra, sia che sia risposta al terrorismo, ci sono degli strumenti che bisogna usare. Allora, tanto per ricordare ai telespettatori, poi uno non è obbligato a seguire tutti i giornali o i telegiornali. Attentati di Parigi. Hollande chiede aiuto all'Unione Europea attraverso un articolo di mutua assistenza. L'Unione Europea diciamo lo nicchia, nel senso che tutti dicono sì è vero, è vero, è vero, però poi di aiuti concreti niente. Quindi che cosa fa? Comincia a bombardare la Siria, si allea con la Russia, andrà negli Stati Uniti e andrà anche in Russia. Due giorni fa c'è stata una risoluzione del Consiglio di Sicurezza all'ONU, all'unanimità, che dice lo Stato Islamico costituisce una minaccia globale senza precedenti alla pace internazionale e alla sicurezza. Si sollecitano tutti gli Stati membri che hanno la capacità di farlo, di prendere tutte le misure necessarie nel rispetto delle leggi internazionali per esradicare i santuari dell'ISIS in Iraq e in Siria. Adesso io le domando anche da diplomatico, questa dichiarazione può essere un ombrello sotto il quale ciascuno fa quel che vuole? Quindi la Francia bombarda, la Russia potenzia il carico. Gli americani, punto interrogativo? Beh, lei adesso mi sta leggendo questo testo di risoluzione. Mi ricorda molto il testo delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza che riguardano l'Afghanistan, proprio il wording, mi sembra molto simile a questo. L'unica cosa, vado a memoria perché non è che mi ricordo tutte le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza sull'Afghanistan, ma mi sembra che l'unica differenza sia che nel caso dell'Afghanistan si diceva che si invitavano gli Stati membri a cooperare militarmente nella massima misura possibile. Quindi manca la parolina chiave. Quindi manca solo questo petto, però mi pare che la direzione in cui si va è quella. E se, poi parlando anche dell'Afghanistan, quello che noi ci dimentichiamo un po' nell'attualità afghana è che effettivamente parte dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. L'intervento internazionale in Afghana non è una cosa della Nato, si parla sempre della Nato. In realtà l'ombrello sono le Nazioni Unite. E la Siria, secondo me, è il caso ideale per fare la stessa cosa. Le risulta che la Nato si stia preparando o si stia parlando e preparandosi a un tipo di intervento del genere? No. Questo non succede. Questo intervento, questa richiesta che lei ha citato prima da parte del Presidente Hollande, facendo riferimento all'articolo 42,7 del Trattato di Lisbona, è una prima. È la prima volta che avviene nella storia. Non è mai stato fatto prima. E naturalmente è pieno di ambiguità. Lo stesso articolo è pieno di ambiguità, perché dice che si tratta di dare la massima assistenza possibile allo Stato colpito che chiede aiuto. però poi non dice altro. Allora, io ho visto per esempio che il Ministro della Difesa francese all'Assemblea nazionale, l'ho visto in diretta, si è dichiarato pienamente soddisfatto del risultato. Ed è stato accolto degli applausi dell'Assemblea nazionale. Che però è stato poca roba. Che però forse era quella poca roba che si chiedeva. Cioè la mia sensazione, conoscendo anche un po' la Francia e anche l'orgoglio nazionale francese, è che non si voglia in realtà un aiuto, i cannoni dell'Unione Europea. Che sia soprattutto di carattere politico, di carattere, come dire, di coincidenza di valori, di sostanza, di pulizia alla frontiera, di amicizia. E questo è il vero valore della sistema. E naturalmente capisco che la Francia si rivolge all'Unione Europea perché è la nostra madre, diciamo, politica all'Unione Europea. Se uno va sulla Nato è chiaramente più per un'opzione di tipo militare. E ti devi coordinare. E ti devi coordinare. Quindi il problema del Giovannangeli è che la Francia vuole mano libera. La Francia non ha nessun interesse, diciamo così, a rimettere la palla nel campo, diciamo così, né dell'Unione Europea, ragione l'ambasciatore, né tantomeno della Nato. Vuole avere mani libere. In questo ha trovato un alleato, diciamo così, come dire, funzionale che Putin, diciamo, poi ne parleremo, eccetera, eccetera, quindi che non ha nessun problema. Io devo dirti, io devo dire francamente che questa risoluzione che tu hai letto a me preoccupa. Preoccupa per la sua ambiguità, per quelle cose, non solo per quella parolina che è fondamentale, ma per quello che non c'è scritto. E cioè, è facile iniziare un conflitto, una guerra in Afghanistan piuttosto che in Iraq, piuttosto che in Libia, eccetera. Il problema è come la finisci. E allora su questo, che è politica, non c'è assolutamente alcun accordo, tant'è vero che nel testo iniziale della risoluzione la Russia aveva voluto mettere un riferimento esplicito ad un supporto all'esercito di Bashar al-Assad. Dalla risoluzione, dalla mozione, perché è stata tolta questa cosa, allora che cosa significa questo? Che se tu non hai chiaro in testa che cosa sarà il dopo, perché probabilmente Daesh lo sconfiggerà militarmente, ma che cosa sarà la Siria? E allora se non ti metti d'accordo su questo, ritorniamo al punto di partenza. Loretta Napoleoni, vista da Londra, una Londra che è sempre stata al fianco degli americani e che però sulla Siria il Parlamento gli ha detto no a Cameron, non ti muovi. Che tipo di aiuto può dare alla Francia? Si sta pensando di darlo? Ma dunque Cameron ha chiesto di intensificare gli aiuti e in particolare ha parlato specificamente di partecipare all'azione dei bombardamenti, ma il Parlamento ancora non si è espresso. Il nuovo Premier laborista Corbyn ha chiaramente detto che il partito laborista non appoggerà una decisione del genere, a meno che non ci sia una risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che chiaramente sappiamo bene, non ci sarà, perché la Russia e la Cina sicuramente impediranno una decisione di questo tipo. Quindi diciamo che la Gran Bretagna è un po' in finestra, io ho un po' l'impressione che tutta l'Europa sia un po' in finestra, riallacciandomi a quello che ha detto l'ambasciatore. E va bene così per la Francia, anche perché diciamo un'azione congiunta simile a quella che abbiamo visto in Afghanistan per un attacco di questo tipo sembrerebbe un po' eccessiva. È anche vero che sono 16 mesi che le forze di coalizione bombardano lo Stato Islamico e lo Stato Islamico oggi ha un territorio più vasto di quello che aveva 16 mesi fa. In più vorrei aggiungere una cosa... La devo interrompere perché andiamo in pubblicità, ma è proprio questo del quale volevo parlare dopo il blocco, perché lei ha scritto proprio un libro sullo Stato Islamico e quindi ci aiuterà a capire che cos'era lo Stato Islamico 16 mesi fa e che cos'è dopo. Quindi restate con noi, pochi secondi di pubblicità, poi torneremo qua ad Omnibus per parlare di quello che sta accadendo in Francia, in Siria e in Maglia. Restate con noi. Bentornati in diretta per questo nostro dibattito per parlare dei fatti di Parigi, della Siria, dell'Isis. Proprio di questo stavamo parlando poco prima della pubblicità con Loretta Napoleoni in collegamento da Londra e riprendo il discorso proprio da lei perché Loretta Napoleoni ha scritto un libro che si chiama Isis, lo Stato del Terrore, dove vi leggo un passaggio. Si dice che l'Isis è, tesi provocatoria, uno Stato moderno e pragmatico che mischia tecnologie e usanze tribali. Non esclude Loretta Napoleoni che possa riuscire laddove altre organizzazioni armate hanno fallito, vale a dire creare uno Stato partendo solo dalla violenza e imporsi all'attenzione del mondo e legittimarsi alla comunità internazionale. Loretta Napoleoni, come era lo Stato islamico 16 mesi fa e come è adesso? Si è veramente creato uno Stato come sostiene anche Michela Inis sul Corriere della Sera per cui popolazione, controllo del territorio e abitanti al momento in cui c'è uno Stato si può andare anche a colpirlo legalmente. Sicuramente quello che è successo è che il modello che è stato applicato inizialmente ha funzionato molto bene, quindi abbiamo una divisione tra le truppe cosiddette armate, quindi i jihadisti che si occupano della guerra e quindi come nello Stato di diritto, nello Stato nazione europeo, l'esercito ha come compito la difesa dei confini nazionali e quindi la sicurezza nazionale. Invece per quanto riguarda la gestione interna dello Stato c'è una struttura amministrativa e burocratica che è simile a quella dei nostri Stati. Questa è la prima volta che un gruppo jihadista dimostra questo tipo di sensibilità nei confronti della gestione dello Stato nell'interesse della popolazione, quindi nella ricerca del consenso da parte di una popolazione che in realtà è stata conquistata militarmente. Ecco, questo secondo me è un concetto fondamentale e un concetto anche molto moderno. Poi c'è un altro elemento che è diciamo l'elemento nazionalista, questa è una battaglia per creare uno Stato, quindi per quanto riguarda il reclutamento si spiega ai ragazzi che si sta costruendo una nuova nazione, quindi il messaggio è un messaggio nazionalista. La differenza con Al-Qaeda è fondamentale perché nell'ideologia di Al-Qaeda il califato era il punto di arrivo, qui invece il califato è il punto di inizio, quindi diventa un'arma per questa guerra, questa jihad che non è più una guerra santa ma è una guerra nazionalista e questa è la differenza fondamentale. E questo però è un precedente pericolosissimo, cioè se è una rivoluzione armata brutale che fallisce potrebbe iniziare in Siria ma potrebbe spostarsi anche in altri continenti. Assolutamente e infatti quello che noi abbiamo visto negli ultimi 16 mesi non è solamente l'allargamento geografico dei confini del califato, abbiamo anche visto la formazione di un fronte internazionale sotto l'ombrello del califato e questo viene percepito come un fronte antiimperialista che va da Boko Haram in Nigeria attraverso il Sahel con Al-Qaeda nel Maghreb fino ad Al-Shabaab in Somalia e poi arriviamo nello Yemen, arriviamo in Siria fino praticamente a alcuni capitani dei talibani e questo è un pericolo reale, reale. Cappelli, stati, confini, quindi praticamente l'Isis, questo lo sappiamo, vuole ridisegnare i confini ma è possibile e si può impedire? Sì, anzi ci sono diverse teorie che sostengono l'utilità di frazionare nuovamente il Medio Oriente per rendere stati più piccoli e più omogenei, col doppio vantaggio di essere più piccoli e quindi controllabili e più omogenei e quindi si spera che diminuisca la conflittualità nella zona. Vorrei fare un'osservazione su quanto detto da Napoleoni perché il movimento ISIS in Siria e Iraq, nonostante la pubblicità e la pericolosità che si parla tanto di questi foreign fighters, è un movimento a maggioranza ancora irachena con forti componenti anche siriane e anche un componente di volontari armati seneri che oscilla sul 30-40%. Che peraltro sarebbero i più feroci. Sono i più feroci con la popolazione locale e i più pericolosi per noi per quando tentano di rientrare, esatto. E a rischio in una sorta di effetto domino il paese che rischia di più è il Libano che è sempre stato frazionato, a cascata se dovesse cedere anche la Siria. Per quanto riguarda gli altri gruppi citati da Napoleoni, che sono gruppi in Africa soprattutto, per ora siamo ancora a una sorta di omaggio formale all'ISIS, ma non ci sono vincoli operativi. Mentre invece la struttura amministrativa vera e propria di ISIS si trova in Siria ed Iraq. Mentre gli altri siamo ancora appunto a una sorta di omaggio formale con lo scopo evidente di attrarre reclute, attrarre volontari armati anche loro, attrarre finanziamenti perché l'ISIS è una formazione terrorista molto ricca. Olivier Bobba, creare uno Stato con la violenza è un precedente, dicevamo, pericolosissimo. L'Occidente lo può permettere? L'Occidente è inteso come Stati Uniti ma a questo punto allarghiamolo anche alla Russia perché anche loro hanno i loro bei problemi. Beh, mi sembra ovvio che no, è impossibile perché si vede con i fatti che abbiamo avuto a Parigi, ma in altri paesi bisogna pensare al Libano che è stato colpito anche lui da un attentato proprio il giorno prima degli attentati di Parigi. E dove ci sono alcune migliaia di soldati anche italiani, ricordiamolo, per chi non lo sapesse, nell'Unifil. E il nostro interesse. Il problema è che abbiamo lasciato crescere questo califato, questo mostro terroristico per anni, perché come si è detto due anni fa, l'ISI non era così potente, adesso lo è molto di più, anche per colpa nostra. Quando si parlava di alleati bisogna capire il gioco della Turchia, per esempio, che ha permesso anche il transito di foreign fighters, ma anche della fonte di soldi dell'ISI, cioè il petrolio, armi, petrolio, opere d'arte, qua c'è una chiarificazione molto importante sulla Turchia che secondo me è un paese molto chiave in questa crisi. E che noi europei abbiamo delegato a tenere i siriani sul loro territorio con 3 miliardi di euro. 3 miliardi di euro, perché hanno utilizzato lo strumento dei rifugiati, ne hanno 2 milioni. Dei campi profughi. Come arma di ricatto nei confronti dell'Europa, no, questo è chiaro. Però voglio dire che, insomma, noi non possiamo dipingere questi soltanto con categorie psicoanalitiche, psicopatico, detto questo al-Baghdadi eccetera, perché le cose sono un po' più complesse. Per esempio la catena di comando militare dell'ISIS non è fatta da Gia Di Gion dei Tagliagula, la catena di comando militare dell'ISIS è fatta tutta da ex ufficiali di Saddam Hussein. Ora uno dovrebbe riflettere su questo, cioè quando tu distruggi uno Stato, in questo caso lo Stato iracheno, è evidente che questi ragionano in termini di strategia militare, non è che abbiamo a che fare con semplicemente dei generici jihadisti, questi erano la catena di comando militare di uno Stato, di un esercito e quindi ragionano in questi termini. L'altra cosa, quando si diceva prima chiarezza, appunto gli alleati, chi c'è da questa parte, scusate ma una delle fonti di finanziamento dell'ISIS è il petrolio, addirittura loro ne hanno un controllo credo di una quindicina di giacimenti petroliferi importanti, ma la domanda che un qualsiasi nostro ascoltatore dice, ma scusate ma se io vendo il petrolio qualcuno me lo compra. Allora chi sono i paesi che comprano il petrolio dall'ISIS? Sono i paesi vicini, perché non è che questi jihad lo possono dare alla Corea, allora i paesi vicini... Pare che anche la Siria, anche Assad compri il petrolio dell'ISIS, allora se tu vuoi, allora va benissimo ad esempio militarmente attaccare per esempio le loro raffinerie, le loro loro, cioè il loro sistema diciamo così, però poi bisogna anche fare chiarezza con i paesi vicini, perché se tu vuoi combattere l'ISIS ad esempio gli devi togliere questa sorgente e quindi non gli devi comprare il petrolio. Loretta Napoleoni, nel suo libro c'è un passaggio che mi ha molto colpito, perché è una tesi, io la definisco provocatoria perché al momento non mi vengono in mente altri aggettivi, poi me lo dirà lei, lei dice la barbarie e il terrore da che mondo in mondo ci sono sempre stati, l'ISIS non è più crudele di altri, ma il punto è che lo fa sapere e riesce con la tecnologia a moltiplicare questo messaggio. Adesso io le domando, questa considerazione vale anche dopo i fatti di Parigi oppure c'è stato un salto. Secondo me vale anche dopo i fatti di Parigi, allora io vorrei prima di tutto far presente che la rivoluzione francese non è stata pacifica, cioè hanno tagliato la testa a tantissime persone, quindi non meravigliamoci dell'uso della violenza nei cambiamenti politici, nella costruzione anche di uno Stato, anche la rivoluzione americana non è stata pacifica. Quindi bisogna stare un po' attenti, chiaramente per noi oggi questo tipo di barbarità è assolutamente sconvolgente, però se torniamo indietro di appena 200 anni cambia tutto, quindi bisogna anche avere una certa prospettiva storica. Per quanto riguarda quello che è successo a Parigi, io non sono sicura che l'attacco di Parigi sia stato pianificato a racca e quindi che rientri in quella logica dell'attacco al nemico lontano che era tipica di Al-Qaeda. Io penso invece che ci sia purtroppo oggi in Europa una nuova rete di jihadismo che è nata dal processo di radicalizzazione che ha condotto lo Stato Islamico e che si è attivata. Sicuramente ci sono dei contatti con lo Stato Islamico, però io non credo che il mandante e l'organizzatore venga da racca, il che vuol dire che il problema che abbiamo in Europa è un problema europeo che va risolto all'interno dei nostri confini. Bombardare maggiormente o potenziare il nostro intervento militare nella zona controllata allo Stato Islamico sicuramente non impedirà un prossimo attacco. Noi dobbiamo lavorare sul nostro territorio e quindi dobbiamo lavorare per bloccare questa radicalizzazione che è in corso. Certo questo non è facile, però questo è un nuovo fronte e questo è quello che dobbiamo fare. Bascettore Venuto Rizzo, certo ascoltare le parole di Loretta Napoleoni che dice in fin dei conti anche durante la rivoluzione francese hanno tagliato la testa, non so il nostro amico francese, non può dire niente contrario, la verità è fattuale, l'accostamento che fa Napoleoni è obiettivamente forte. Nel contesto dell'epoca erano colpevoli, c'è stato un processo, in questo caso è una violenza totalmente gratuita che non mi sembra che si può totalmente paragonare queste situazioni, però alla fine sì abbiamo decapite, decapitato. Allora io vorrei dire questo, ritornando un po' perché sennò credo che l'interesse anche di un colloquio di questo genere sia quello di andare un po' alla ricerca, come si dice, delle cause profonde, piuttosto che perderci su importanti dettagli di Corona che amare sempre dai. L'ISIS allora, sì, adesso noi nel nostro sistema di pensiero occidentale crediamo molto a concettualizzare tutto, a trovare un pattern ovunque, ed è la maniera in cui noi siamo costruiti, quindi è normale che sia così. Però io credo che l'ISIS non vada neanche, mi viene il termine santificato che è sbagliatissimo, ma non venga neanche troppo esaltato come forma di amministrazione statale. C'è un po' di questo naturalmente, anche perché il fatto è che l'ISIS controlla certi territori e quindi cercherà di dare la luce ai cittadini la mattina o l'acqua, non lo so, è una cosa abbastanza automatica di qualunque tipo di controllo del territorio, non dimostra una particolare voglia di governare bene, a mio parere. Questa è una cosa, è una cosa. E poi, diciamo, questo peso che ha assolto l'ISIS è in gran parte casuale, secondo me, e va oltre le aspettative iniziali dell'ISIS. Perché dico questo, che può sembrare strano, perché lo stiamo dicendo tutti quanto è potente l'ISIS. Perché in realtà l'ISIS si è confrontato con delle realtà straordinariamente deboli. E in questo caso la parola straordinariamente è così appropriata. A quali si riferisce? Io mi riferisco allo Stato siriano, che è sul punto del collasso. Io credo che se i russi non fossero intervenuti, l'esercito di Assad sarebbe collassato nel giro di poche settimane. Perché tentiamo presente che l'esercito di Assad si base sugli alawiti, che sono il 12% della popolazione. Quindi hanno l'aeronautica, possiamo parlare di queste cose qui. Poche cose, ma è uno stasso. Scarsissimo. Scarsissimo. Sul punto del collasso. Sul punto del collasso, quindi quando crolla, crolla. I russi credo che in gran parte siano intervenuti anche per questo. L'avevano capito. Sì, l'avevano capito perché li conoscono bene, perché ci lavorano insieme, perché sanno come funziona. Da una parte. Dall'altra abbiamo questo straordinario Iraq, che credo nessuno di noi riesce, francamente, onestamente, dopo aver parlato male di Bush, eccetera, ma a capire bene. Perché in realtà, diciamo, le forze militari dell'ISI sono gli equipaggiamenti dell'esercito iracheno che è scomparso come neve al sole un anno fa a Mosul. Cosa che nessuno di noi si aspettava. E quindi è chiaro che avendo dei nemici così, così clavorosamente fragili, voglio dire, ancora oggi, come dire, Baghdad tiene appena pena, insomma. È chiaro che dà all'ISI un grande potere. Dà delle armi molto moderne, molto, molto importanti, molto facili da usare. Quindi, insomma, c'è questo aspetto qui. Quindi, come dire, l'ISI, sì, è vero, tutte quelle che abbiamo detto, i connessioni con Boko Haram e Nigeria, la Somalia, tutto vero. Però, attenzione, attenzione, c'è una situazione locale che è molto particolare. Ecco, Riccardo Acappelli, io le domando questo. Da 16 mesi gli americani, con un pugno di alleati, anche arabi, stanno bombardando la Siria e l'Iraq, stanno bombardando l'ISIS. Alcuni giorni fa il ministro degli esteri russo ha fatto un'accusa pesantissima, ha detto bombardate, bombardate, ma volutamente gli obiettivi sbagliati. Adesso io so che lei si occupa proprio di questa, l'Accademia Aeronautica, può sembrare molto specifico, ma si occupa della guerra aerea. Che informazioni ha lei su questo? Allora, l'andamento della campagna aerea statunitense, è vero che è una campagna aerea sui generis, è molto limitata rispetto a altre campagne aeree del passato. Ricordo il Kosovo, ma ricordo la stessa Libia del 2011. Il numero di sortite e il numero di attacchi aerei è molto più basso rispetto a una campagna aerea tradizionale e anche il numero di aerei impiegati. Sembra quasi che l'arma aerea sia stata usata più per fini punitivi barra contenitivi della situazione sul terreno. Cioè non per sconfiggerlo. Non per sconfiggerlo. Per tenerlo buono. Esatto, per tenere, per il pareggio, per capirsi, tra le fazioni. Esatto. Il problema dell'aviazione statunitense è che attualmente stanno iniziando a scarseggiare i bersagli, perché è vero che non ha avuto effetti profondi sulla struttura armata dell'ISIS e quant'altro, però ha avuto un effetto sulle tattiche. Le famose colonne di GIP con le bandiere nere al vento che entrano nelle città e le conquistano... GIP nuove e fiammanti rubate all'Irakenia o comprate chissà dove. Esatto. Queste colonne qua non si vedono più. Adesso l'ISIS è stato costretto quasi a una guerra di posizione, tant'è vero che i tre capisaldi che sono Musul, Raqqa e Ramadi sono tre città trincerate. Parlava un ufficiale statunitense che diceva che sono città difese in stile prima guerra mondiale. Vale a dire? Quindi fili spinati, barricate e una volta si parlava di mine, adesso ci sono questi I e D, questi ordini improvvisati che servono per rallentare e canalizzare l'avanzata e queste città sono completamente attrezzate per la difesa urbana. Tant'è vero che gli addestratori occidentali saranno addestrando specialmente i Peshmerga alla lotta urbana perché i Peshmerga e i kurdi non sono abituati. Sendo abituati alla guerra di montagna non sono avvezzi allo scontro urbano. Il problema, allargando il discorso più in generale, sull'addestramento delle forze armate locali è veramente uno dei problemi principali della questione. Sono 14 anni che addestriamo gli afghani, sono 12 anni che addestriamo gli irakeni, sono qualche anno che addestriamo i siriani e i risultati sul terreno sono miserevoli. Quindi dei due o vengono addestrati male o sono incapaci? Manca il sentimento nazionale. Manca il sentimento nazionale per cui forze sciite e kurde combattono malvolentieri in zone sunnite e viceversa. Oltretutto c'è un tasso di corruzione spaventoso, quindi l'ordine di battaglia dell'esercito terreno è pura fantasia. La metà delle unità sono con personale in licenza permanente perché ha corrotto il proprio ufficiale. Ci sono ufficiali che si rendano i servizi, ci sono personale che paga per non essere impiegati in alcune zone, spariscono i rifornimenti, la logistica non è mai stata il pezzo forte dell'esercito iracheno, qui poi è ridotta a uno stato miserevole e la truppa sul terreno ne risente perché quando vede solo un elicottero iracheno che interviene nella battaglia dice ma gli altri 139 dove sono finiti? E questo ovviamente li demotiva e demoralizza le truppe. Tant'è vero i kurdi già adesso hanno detto che non scenderanno fuori dalle zone kurde. Una volta riprese le zone kurde in Siria ed Iraq si fermeranno e nascerà un altro protostato nella zona medio orientale con ripercussioni ovviamente sugli altri milioni di kurdi che sono in Iraq e in Turchia. Tenete presente che un contingente di kurdi iraniani sta già combattendo insieme ai kurdi irachieni. Loretta Napoleoni, quindi non basta la guerra aerea? No, secondo me non basta la guerra aerea, io sono assolutamente d'accordo con quello che ha detto Cappelli. Non è la prima volta che succede una cosa del genere, anche nel 2005-2006 quando gli americani mandarono degli advisor per forgiare il futuro esercito iracheno. Ricordo che nel 2003 quando gli americani entrarono a Baghdad ci fu il processo di debattificazione e quindi da un giorno all'altro tutto l'esercito, tutta l'intelligent, tutte le forze polizie sono state messe alla porta. Lo spoil system hanno fatto, un po' selvaggio ma insomma così. Adesso si è scoperto che l'ordine era di epurare solamente chi era molto vicino al regime. Poi all'ultimo momento è arrivato un ordine da parte di Dick Cheney che invece ha detto no, mandiamoli via tutti. Errore assolutamente tremendo. Quindi una parte si è riciclata nel movimento insurrezionale e diciamo i quadri, la parte più importante è confluita nel gruppo di al-Zarqawi che poi è diventato appunto lo stato islamico dell'Iraq. Però tornando al discorso degli advisor anche in quegli anni praticamente succedeva la stessa cosa, la corruzione era assolutamente rampante. Io ho parlato con dei militari americani che mi hanno detto arrivavano le armi, le munizioni, le mettevamo nel magazzino la sera, la mattina dopo non c'erano più. Ecco, quindi questo è un problema che noi ci trasciniamo dal 2003. Quindi è chiaro che usufruire di queste forze sul territorio, anche nella cosiddetta guerra per procura, e mi riferisco alle forze kurde, ma mi riferisco anche ad altre forze, Jabhat al-Nusra è un'organizzazione di al-Qaeda. Al momento è uno dei nostri alleati. Napoleone, la devo interrompere, mi spiace che tocchi sempre a lei prima della pubblicità. Però noi torneremo subito dopo la pubblicità per continuare a parlare di questi temi, per continuare a parlare soprattutto della Russia, di Putin, e vi faremo vedere un filmato molto interessante. Restate con noi, ci vediamo tra pochi secondi. Ben tornati in diretta, abbiamo parlato fino ad adesso dello Stato islamico, di che cos'è, come si finanzia, quali sono le sue ramificazioni. Tocchiamo adesso però un altro aspetto di questa crisi regionale, di questa crisi mondiale, che è quello della Russia. È arrivata adesso un'agenzia che dice che il Ministro degli Esteri, il Ministro degli Esteri russo, ha confermato che nell'attacco in Mali tra le vittime ci sono dei cittadini, viene usato il plurale, cittadini russi. Quindi questo è un particolare importante che avrà degli sviluppi. Ma perché vi diciamo questo? Perché adesso vogliamo farvi vedere un documento video che probabilmente non è esagerato dire passerà alla storia. Se un domani qualcuno vorrà fare un documentario, una ricostruzione degli avvenimenti di questa settimana, ebbene non potrà fare a meno di questo. Dove ci troviamo? Ci troviamo a Mosca, nel centro operativo per la difesa nazionale, e vedete il Presidente russo Putin, assieme al Ministro della Difesa, in una scenografia che sembra un film tipo Caccia Ottobre Rosso, dove Putin dà l'ordine formale collegato in diretta video al comandante dell'incrociatore Moskva, che è il comandante della flotta russa in quella zona del Mediterraneo, che gli dà l'ordine operativo d'ora in poi. I francesi sono nostri alleati, mettetemi in contatto con loro, un video che ne vale la pena. Guardatelo. A breve, un gruppo navale francese guidato da una porta aerei si avvicinerà alla vostra zona. gruppa. È necessario stabilire un contatto diretto con i francesi e cooperare con loro da alleati. Il capo di Stato Maggiore e il Ministro della Difesa hanno ricevuto istruzioni in tal senso. È necessario sviluppare un piano comune di azione in mare e a terra. Nel portare avanti la missione di combattere i terroristi in Siria, voi proteggete la Russia e i suoi cittadini. Vi ringrazio per il vostro servizio e vi auguro buona fortuna. Avete visto questo video con tutta la scenografia, con tutta la solennità che comporta. Sembra veramente tratto da un film alla James Bond. Però dopo questo vorrei farvi vedere anche una foto che è uscita il giorno dopo sul Corriere della Sera, se la regia ce la può mostrare. Eccola qua. Una foto che il commentatore del Corriere della Sera diceva pare tratta dagli archivi dell'Unione Sovietica, perché ci sono i generali, c'è questa sala molto austera con i simboli della Russia, invece dei tablet ci sono le penne con i tacquini e puntava l'indice su questo telefono bianco che pare uscito dagli anni Sessanta. Ambasciatore Minuto Rizzo, lei che conosce i russi. La Russia vera di questi giorni è questa foto col telefono degli anni Sessanta o questo video da Caccia Ottobre Rosso? Beh, la Russia è sempre la Russia, è sempre la grande madre Russia, è sempre un paese molto nazionalista, un paese molto orgoglioso, molto fiero di sé, un paese che vuole essere assolutamente riconosciuto come una superpotenza e per quasi una condizione di vita essere riconosciuto come tale. Io che ho passato diversi anni in Cecoslovacchia durante la Guerra Fredda, l'Ambasciata italiana, mi ricordo che i giovani cecoslovacchi che andavano a studiare in Russia dicevano che le condizioni di vita in Russia erano peggiori che in Cecoslovacchia, ma è che i russi erano fieri di essere una grande superpotenza e quindi sopportavano volentieri questo tipo di restrizioni. Io credo che la Russia, come dire, in Siria sia rientrata per tornare in gioco, cioè il fatto di essere isolati, di essere sotto le sanzioni dell'Occidente, considerati quelli che hanno violato l'ordine internazionale e messi in un angolo non è piaciuto ai russi e con una mossa molto abile sono rientrati nel grande gioco nella maniera giusta. In questa maniera stiamo parlando di alleanza tra Russia e Francia, cosa che fino a una settimana fa... Che precedenti ci sono? L'ultima volta? A memoria? Ma guardi, l'ultima volta a memoria dovremmo andare veramente molto molto indietro. L'ultima volta in cui c'è stato, diciamo, parlando in termini un pochino più generali, un sistema cordiale di relazioni fra la Russia e l'Occidente, dobbiamo andare alla fine degli anni 90 e i primi anni del 2000, perché c'è stato un momento in cui in Occidente si pensava che la Russia si sarebbe avvicinata a noi e ci fu questo famoso vertice di pratica di mare, famoso così, si dico per dire... Berlusconi. Ecco per dire... Torniamo, torniamo a... Per dirla così, insomma, no? In cui però, come dire, Berlusconi c'entra molto poco in realtà in tutto questo, se volete posso rispondere a domande in materia, ma in realtà però ci fu certamente un grande avvicinamento tra Putin e l'Occidente e sembrava quasi, sembrava quasi... Che fosse scoppiato l'amore. Che fosse scoppiato l'amore, sembrava quasi che fosse scoppiato l'amore e poi purtroppo naturalmente il problema sta sempre, come dire, nelle cose pratiche, ci furono delle crisi in Georgia, ci furono dei problemi territoriali nell'ex Unione Sovietica e lì rincominciò il casino, per dirlo in termini così... In termini molto... Molto... Molto concreti. Umberto, abbiamo messo nel titolo Putin Superstar America e UE non pervenuti. Sì, questo è vero, però lasciami dire che io penso che la logica del male minore ha portato negli anni delle tragedie. Allora, io credo che oggi noi possiamo, dobbiamo far fronte comune contro Daesh e lo Stato Islamico. Ma guai a noi se dimentichiamo ciò che la Russia e la Cina hanno fatto per anni, dal 2011 quando ci furono le prime manifestazioni in Siria, per difendere un regime tra i più sanguinari. Perché questo non possiamo dimenticarlo, anche quando ragioniamo sul dopo. Cioè, voglio dire, noi stiamo parlando di un regime che Putin ha sostenuto attraverso anche il boicottaggio di qualsiasi risoluzione che alle Nazioni Unite anche soltanto condannasse l'uso del gas, delle armi chimiche, i bombardamenti sulle popolazioni civili. Quindi c'è una responsabilità. Ma io credo assolutamente di sì e comunque sia non può essere cancellata. Cioè, non è che stiamo parlando di un signore, adesso questo signore si sta anche, diciamo questo signore è? Assad. Assad. Ora, voglio dire, c'è anche chi lo sta glorificando, non è la vostra rete, altri, diciamo così. No, guarda noi. Ecco, proprio voi no, però alcuni, diciamo così, l'hanno fatta. L'hanno fatta e devo dire che francamente far passare, diciamo, per molto meno, molto o meno, Muammar Gheddafi è stato fatto fuori. Ora, se noi vogliamo opporre, soltanto dalle dimensioni, sulle dimensioni dei disastri combinati da questi, ma non c'è dubbio che Assad è stato mille volte più pericoloso per il suo, ma insomma, se la Siria è ridotto ad essere un paese che in quattro anni ha avuto 300.000 morti e non l'ha fatti tutti Daesh, anzi la stragrande maggioranza non è stata fatta dallo Stato Islamico. Se la Siria oggi ha 11 milioni di profughi su una popolazione di 25 milioni di abitanti, beh, ma voglio dire, ci vogliamo interrogare sulle responsabilità? E allora io credo che questi che stanno diventando oggi i nostri partner nella guerra o nel conflitto con Daesh non sono persone con cui è possibile immaginare un futuro della Siria. Ecco, Livia, il fatto che Hollande adesso vada, diciamo così, a braccetto con Putin per bombardare lo Stato Islamico, significa che deve chiudere un occhio anche su Assad, secondo te? No, sicuramente no, e non credo che lo farà. Ha sempre detto che Assad se deve andare, Obama l'ha ancora detto pochi giorni fa, secondo me, e non so come alla fine faranno per trovare un compromesso, però un compromesso ci sarà. La Turchia ha detto l'altro giorno che nel piano che si trova sul tavolo c'è la possibilità che Assad non sia candidato alle prossime elezioni, che saranno, non so quando. Chissà quando, però una via di uscita sembra che si sta lavorando su questo. Io sono d'accordissimo che Assad è il grande colpevole. Per tornare sulla mossa della Russia, non dimentichiamo che ha cominciato tutto con l'episodio delle armi chimiche, quando la Russia ha totalmente bloccato... Blindato. Sì, sì, ha blindato quando la Francia ha voluto bombardare... Ricordiamo, Francia e Stati Uniti volevano bombardare Assad per la famosa linea rossa, le armi imponendo questa negoziazione su il disarmamento degli armi chimici, che si è fatto, ma non se ne parla più adesso, e ha totalmente vinto su questo punto la Russia. Non è la prima mossa, quella che abbiamo visto la settimana scorsa, infatti è la seconda. Loretta Napoleoni, la domanda è molto secca. Per dare mano libera a Putin, che non avendo problemi di consenso interno, può pigiare sull'acceleratore dei suoi jet, sostanzialmente può bombardare in maniera pesante l'Isis. Questo significa che la comunità internazionale dovrà chiudere un occhio su quello che è accaduto in Ucraina? Io purtroppo temo di sì. Temo che Putin sia incuneato in questo conflitto. Tra l'altro ha anche un grosso sostegno non solamente in Russia, ma anche in Europa. Ecco, non dimentichiamo questo. Quindi ci sarà sicuramente un accordo, è questo che Putin mira. Io però volevo aggiungere una cosa sola che De Giovannangeli ha menzionato all'inizio. Va benissimo intervenire, però poi bisogna sapere cosa fare dopo. Perché quello che è successo in Libia ci ha bloccato riguardo alla Siria. Cioè il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha proibito l'intervento subito dopo l'uso delle armi chimiche sulla base del fiasco libico. Ricordo che oggi in Libia ci sono 1200 gruppi armati. Quindi la responsabilità è anche nostra. Nostra nel senso di occidentali? Sicuramente nel senso di occidentali. Cioè è molto facile intervenire. Però poi dopo bisogna avere un piano ben stabilito per una transizione democratica. Cioè quello che io prima ho menzionato sul processo di debattificazione in Iraq illustra bene il fatto che avevano un programma di invasione, va benissimo, che hanno funzionato anche, ma poi non avevano un programma di transizione. Si sono appoggiati a delle forze che chiaramente non volevano un processo democratico. E mi riferisco praticamente a gente come Chalabi, che era il consulente principale di Dick Cheney e pare sia stato lui a suggerire il processo di debattificazione. Quindi questo è il problema, secondo me, centrale. Vogliamo portare la democrazia? Vogliamo rispondere alla primavera araba? Assolutamente sì! Perché questo è un grido che viene dalle nuove generazioni. Però bisogna farlo bene. Non solamente con le bombe, anche con le riforme. Cappelli, Olivier parlava prima dell'episodio del possibile attacco in Sida da parte degli americani dei francesi a causa delle armi chimiche, fermato poi dai russi. Fermato anche, dobbiamo dire, da un forte intervento di Papa Francesco, che si oppose all'ipotesi che fosse bombardata la Russia. Papa Francesco che va parlando di una nuova guerra mondiale, fatta a pezzetti. Adesso non sappiamo se è guerra, non sappiamo se è mondiale, ma sicuramente sappiamo che è una cosa fatta a pezzetti. Come si può definire questo tipo di confusione armata che stiamo vivendo? So che lei ha studiato questo argomento. Sì, diciamo che per cercare di risolvere, forse converrebbe pensare proprio alla ridefinizione dei confini del Medio Oriente. Dico ripensare, ci sono tanti modi, ci sono tolleranza di stati de facto, come è Hezbollah in Libano e come sarà il Kurdistan. Anche l'ISIS a questo punto potrebbe essere un'ipotesi. L'ISIS dipende dalle scelte. L'ISIS è comunque formato da più componenti. C'è una componente straniera, c'è una componente irachena, c'è una componente siriana, c'è una componente tribale siriana di irachena e più componenti ci sono e più si possono sfruttare per effetti divisivi. A questo proposito ricordo solamente incidentalmente che forse Assad si è anche preparato un po' il cappio per il suo collo quando ai tempi della guerra irachena permetteva il libero passaggio di jihadisti di tutti i tipi e di tutte le nazioni al confine fuoroso già ai tempi fra Iraq e Siria. E ora si vede ritornare in casa addestrati e con esperienza. Dicevi prima, i bombardamenti russi sullo Stato Islamico, pochi, pochi, circa il 10% delle bombe sganciate dai russi sono cadute nella zona tenuta allo Stato Islamico. Russi e americani scusa? Russe. Russe. Fra l'altro cadute di Sardove perché i russi stanno sganciando munizionamento cosiddetto non intelligente e quindi spreciso. Come hanno sempre fatto dappertutto. Esatto, ceceni a Docet. Ma perché lo fanno? No perché hanno simpatia o meno stilità verso lo Stato Islamico, però è una questione geografica. Le zone dove è a contatto l'esercito di Assad più pericolose sono tenute da reparti di altre entità combattenti. Ricordava le 1200 fazioni in Libia. Anche in Siria mi sembra un conto approssimativo si sia sulle 300, fra alleanze, un tra alleanze, ombrello, organizzazioni fantasma, organizzazioni veri, gruppi di protezione di partiere, guardie nazionali, sbollacchi e punemetta. Quindi è logico che la Russia tenda a bombardare nelle zone di vicinanza del regime siriano. Qui abbiamo una cartina tra l'altro che lei ci ha portato. Esatto. Ecco, queste sono, come posso dire, delle supposizioni sulla base della coerenza etnica dei territori. Questo è il Siria e l'Irasco. A seconda di dove sono la maggioranza della popolazione si hanno, diciamo così, dei nuovi stati, fra virgolette, o protostati, o anche una confederazione molto lasca, per così dire, no? In cui stiamo insieme. Allora, ricordiamo gli alawiti, intanto per essere chiari, Damasco, vediamo la cartina di nuovo. La costa. Damasco è la capitale di cui lo Stato, che perlomeno si è ancora in piedi, gli alawiti è l'etnia di Assad. Esatto. Poi, andiamo. Sì, importante è la parte costiera. Secondo me la figura di Assad, se con una buona trattativa i russi la possono mettere da parte, perché i russi sono interessati, come sempre, nei secoli, all'arrivo nelle acque calde. E lì c'è il porto di Tartus, che è la loro base militare, non la cederanno mai, e consentendoli di rimanere in quella base forse si potrebbe ottenere un cambio di regime. Pare se stiamo vivendo qualcosa fra le forze armate siriane, per assicurare una sorta di trapasso, più o meno in dolore, con Assad in qualche bella isba sul Mar Nero a godersi la pensione. Però, vedremo. La parte sunnita non è detto che sia stato islamico. Ora è stato islamico. Poi, chi lo sa, magari esce fuori una parte responsabile dei sunniti. Torniamo alla cartina. Esatto. I kurdi. I kurdi è la più grossa... I kurdi, diciamolo, in questo momento, giusto per andare ai fondamentali, sono quelli che l'Europa, l'Occidente, paga per fare la guerra per procura. Esatto. E' anche la più grossa etnia senza stato del mondo. Sono circa 40 milioni i kurdi. E sono Siria, Iran, la maggior parte, Iraq, Turchia, tanti, sono quasi il 20% della popolazione. Ecco, però la Turchia non vuole che si crei uno stato. Esatto, per forza, perché avendo quasi il 20% di kurdi, o anzi, come li chiamano loro, turchi di montagna, non vogliono certo avere un protostato che, ovviamente, sarebbe, diciamo sì, un paese mutilato, in quanto mancante della parte settentrionale. I kurdi, comunque, queste sono generalizzazioni, perché tutte queste entità che vediamo nella cartina sono estremamente frazionate tra loro. I kurdi sono frazionati in diverse fazioni. Ci sono addirittura dei kurdi pro Assad. Quindi sono semplificazioni per cercare di spiegare una realtà particolarmente complessa. Ecco, poi in rosa vediamo gli sciiti, gli sciiti uguale Iran. Gli sciiti, sì, uguale Iran. Gli sciiti sono stati contenti quando sono arrivati statunitensi a portare alla democrazia, perché hanno detto, buono, noi siamo il 60%, siamo tutti democratici noi sciiti, e si sono impossessati tutte le leve del potere. I sunniti, con il famoso risveglio sunnita del 2007, dopo gli eccessi di Al Qaeda in Iraq, che era il predecessore dello Stato Islamico, hanno chiesto l'aiuto americano, si sono liberati di Al Qaeda in Iraq combattendolo. Ma poi sono accaduti preda del governo sciita, che gli ha tolto non tutto, ma tanto. Tant'è vero che si sono dovuti di nuovo rifarsi ai cascami di Al Qaeda in Iraq, che poi è ritornato in forza e è ritornato ad essere lo Stato Islamico. Quindi abbiamo capito che la situazione è tutt'altro che semplice. Abbiamo 30 secondi prima che arrivi la pubblicità. Cioè lei sostiene che la Siria potrebbe essere frazionata in questi mini stati? Se si vuole andare verso stati più piccoli, controllabili e omogeni, può darsi. Forse la Siria ancora riusciamo a avere le margine di trattativa, se le forze sottodette democratiche della rivolta riescono ad avere la meglio sullo Stato Islamico. L'Iraq è difficile di riprendersi la fiducia dei sunniti. Quindi l'Iraq è un araco di guazzia puglia di... Esatto. Secondo me i sunniti sono già stati gabbati nel 2007, è molto difficile riconvincere. A me non ci sia una forte garanzia. 9.17 e 50 secondi. Noi ci vediamo tra pochissimo per l'ultimo blocco di Omnibus per continuare a parlare di Isis e di Medio Oriente, di quello che sta accadendo appunto in queste settimane. Restate con noi. Bentornati in diretta per questo nostro ultimo blocco di Omnibus. Questa mattina abbiamo parlato ovviamente dei fatti di Parigi e dei fatti francesi, dell'Isis, come si può combattere, come si potrebbe combattere. Però in tutta questa nostra discussione che abbiamo avuto non abbiamo toccato due punti che stranamente invece adesso vogliamo toccare con Umberto De Giovannangeli e poi vorrei chiedere anche l'oretta di Napoleone. Loretta di Napoleone, abbiamo parlato pochissimo degli Stati Uniti e per niente di Israele. Ecco, per niente di Israele invece credo che dovremmo parlarne seriamente perché Israele è comunque un soggetto fondamentale in quell'area del mondo. E a me ha colpito molto che nella recente Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nel suo intervento, il primo ministro Netanyahu, ha ribadito che il vero nemico, il nemico principale per il mondo libero non è lo Stato islamico, ma è l'Iran. Lui ha definito il presidente Rouhani un lupo travestito da agnello. Ha ammonito anche l'Europa, la stessa Italia, non concedere troppo spazio e troppa credibilità a questo nuovo corso. Cioè, ci sono una serie di soggetti in quell'area che si comportano in modo diverso rispetto alla nostra percezione. Ed Israele è uno di questi. Il problema di Israele non si chiama Daesh, il problema sono gli Sciti, sono gli Esbolla. E quindi da questo punto di vista... E poi non è un caso. Questo è un mondo che si nutre di simbologie. E Daesh è bravissimo da questo punto di vista nella sua guerra mediatica. Io non ho mai visto, ad esempio, un'immagine, un video di questi che avesse, per esempio, come sfondo Gerusalemme. Eppure, diciamo, c'è stata anche l'intifada dei coltelli, è stata chiamata così. È tutt'ora in corso. È tutt'ora in corso. Eppure su questo, tranne alcuni, diciamo così, accenni, però non è stato mai, diciamo così, segnalato come un elemento neanche di propaganda da parte dello Stato Islamico, questa cosa. E questo ci dovrebbe un po' interrogare. Loretta Napoleoni. Allora, io leggo di nuovo un passo del suo libro interessante che dice sull'Isis, noi occidentali abbiamo dato più retta a Facebook e Twitter, che ha i reportage di un inviato sul posto che, tra parentesi, nessun giornale vuole mandare per paura. E poi dice anche che sia gli Stati Uniti che i servizi di intelligence lo hanno ignorato per due anni. Ecco, io le chiederei questo riagganciandomi a quello che diceva De Giovannangeli, per cui nei minacciosi comunicati dell'Isis non si menziona Israele. No, assolutamente no. Secondo me lo Stato Islamico, essendo un animale politico ed anche molto pragmatico e moderno, ha capito benissimo che Israele è lì e rimarrà là. Quindi non ha usato quella retorica tipica di Al-Qaeda e chiaramente anche quella dell'Iran, che considera Israele praticamente il nemico numero uno della popolazione musulmana. In più, aggiungerei un altro elemento importante, la chiamata del califo è diretta a tutti quanti i musulmani sunniti chiaramente, quindi la chiamata è diretta anche alla popolazione palestinese. Perché lottare nei territori occupati quando questa popolazione può venire, anzi benvenuta all'interno del nuovo Stato per poter contribuire alla costituzione del nuovo Stato? Quindi è completamente cambiata qui la retorica e ci troviamo in una situazione in cui paradossalmente, paradossalmente il nuovo Stato di Israele, perché in realtà Israele è un nuovo Stato, è nato subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, e il prossimo nuovo Stato, almeno questo è quello che il califato vuole essere, sono due realtà che annullano completamente tutto quello che è successo prima. Prima di quando? Prima praticamente della Costituzione dello Stato Islamico, quindi la retorica di Israele, di Al-Qaeda, la retorica iraniana, non sussistono più. Viene spazzata via. Perché siamo, esatto, siamo in una nuova fase, ecco perché io parlo della ricostituzione, del ridisegno, la parola migliore, del ridisegno della mappa del Medio Oriente. In questo ridisegno Israele sarà lì, il futuro sicuramente avrà anche e soprattutto Israele e accanto molto probabilmente lo Stato Islamico, tutto il resto non si sa. Ecco però, sempre ragionando su alleati, amici e nemici, sostanzialmente noi abbiamo l'Occidente che ha bisogno della Russia, che ha bisogno dell'Iran per combattere in Siria. Dall'altra parte abbiamo un alleato che è Israele che non vuole che ci si avvicini troppo all'Iran. Prima o poi questo cortocircuito dovrà esplodere, Napoleoni? Assolutamente, assolutamente, ma infatti secondo me già sta esplodendo, nel senso che le forze di coalizione guidate da Washington continuano ad avere una visione che è una visione obsoleta di quello che sta succedendo nel Medio Oriente. Cioè l'alleanza con l'Iran è chiaramente diretta a una risoluzione del problema che esiste al momento in Iraq in relazione all'avanzata dello Stato Islamico. Ma l'idea che le truppe iraniane arrivino sul triangolo sunnita per poter spazzare via lo Stato Islamico, fa gioco allo Stato Islamico perché le popolazioni sunnite sicuramente si ribelleranno e anzi faranno quadrato intorno allo Stato Islamico. Quindi questa è una politica che non funziona. Ambasciatore? Ma guarda, questo è come una specie di caleidoscopio il Medio Oriente. Tanti colori, tanti riflessi. Tanti colori, tanti riflessi, tanti angoli, tutti giusti. Dicono gli inglesi fumo e specchi. È molto così, è molto così. Quindi come dire ci sono tante cose da tenere. Nel fondo io credo che quello che sta succedendo nel Medio Oriente adesso sia un po' l'equivalente della guerra dei 30 anni in Europa, quello che è successo intorno all'Iran. Qui lei però ci deve rinfrescare la memoria storica perché magari l'abbiamo anche studiata ma era una battuta. Questo vuol dire praticamente il mondo cristiano che deve trovare una sua sistemazione e un suo rapporto con lo Stato. Mettiamola così. Questa è la guerra dei 30 anni. Quindi da parte il mondo cristiano da parte gli stati europei. Invece adesso abbiamo questo mondo islamico che è rientrato nella storia, secondo me è rientrato nella storia. E che deve trovare una sistemazione con se stesso che assolutamente non ha. E quindi io spero, me le auguro per noi e per loro che non ci vogliono 30 anni o 300 anni naturalmente. I nostri figli soprattutto. Questo è chiaro voglio dire. Però certamente questo grande problema c'è. Sul tema di una composizione di quello che è il conflitto attuale, io credo che da una parte l'ingresso dei russi in Siria, bene o male che sia. Dall'altra l'accordo comunque sul nucleare che c'è stato a Vienna qualche mese fa con l'Iran. Dall'altro il fatto che secondo me anche l'Arabia Saudita e questi paesi, chiamiamoli così, molto sunniti, stanno capendo che in fondo ci possono essere degli altri sunniti che possono essere i loro killers in un futuro. Che quindi conviene forse una soluzione. Io credo che si vada lentamente verso qualche forma di concerto delle nazioni in cui un qualche compromesso di qualche genere, di un cessate il fuoco e di una qualche risoluzione. Si cresce lentamente tra centomila difficoltà, secondo me un po' si va in quelle direzioni e paradossalmente la strage di Parigi aiuta un pochino la crisi dei rifugiati perché stiamo pagando tutti dei prezzi troppo alti. Libè Bob, avevamo un titolo che però forse non possiamo mettere perché scorre il serpentone di tutti coloro che contribuiscono ogni giorno alla realizzazione di questa trasmissione. Il titolo era La solitudine francese e l'indifferenza europea. Due domande. La Francia si sente isolata, Hollanda è saldamente in sella. Punto interrogativo. Sì, certamente la Francia si è sentita molto isolata proprio nel caso del Mali. Quando noi siamo, l'ho già detto, però siamo interventi da soli e c'era questo sentimento di fare un lavoro che era anche dell'interesse europeo, non solo dell'interesse francese. Mali è un paese che è molto vicino alla Francia per la storia, però occupa nell'Africa una posizione molto importante. Lasciare il judaismo prendere questo paese e diventare una base per destabilizzare ancora di più questa zona che non ha bisogno, era secondo me anche dell'interesse europeo. Adesso con la decisione che è stata presa a Bruxelles di aiutare, una decisione unanima dell'Unione Europea, di dare un appoggio qualsiasi sia, è molto importante per la Francia. Perché così trova un appoggio europeo che non sarà magari... Immediato. No, ma molto impressionante, cioè con mezzi militari, però... Un cambio della guardia in Africa, probabilmente. Stavo appunto per dirlo, perché era proprio questo che anche la Francia chiedeva. Bene, grazie Olivier Bob, capo della France Press a Roma. Io ringrazio Riccardo Cappelli, docente all'Istituto Militare di Scienze Aeronautiche a Firenze. Ringrazio il collega Umberto De Giovannangeli, l'ambasciatore Alessandro Minuturizio, presidente della fondazione Nature Defense College. Grazie a Loretta Napoleoni da Londra per essere intervenuta. L'appuntamento è con il telegiornale delle 13.30, con quello delle 20, sul nostro sito www.tgla7.it trovate tutte le informazioni e se volete, se volete alzarvi presto, noi siamo qui domattina alle 8 per parlare ancora di questi argomenti. Buona mattinata.